Radioattività con Diego Fusaro, lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Ieri sera si è registrata una nuova epifania vespertina del Visconte di Mezzato Giallofucsia, alias Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, da noi ribattezzato con Ignazio Silone, Don Circostanza, l'avvocato che fingeva di tutelare l'interesse del popolo quando in realtà tutelava sempre solo quello delle classi dominanti. La presentazione fatta dal direttore Mentana è stata già emblematica. Dopo aver evocato Dio nel corso di un colloquio con la Gabbanelli, Mentana ha detto testualmente «Adesso scendiamo, ma di poco». Così è stato introdotto letteralmente come un deus ex machina Giuseppe Conte. La giornalista Lily Gruber, da tempo gran cassa del nuovo ordine mentale, cosmopolita e mercatista, ha detto con una punta di orgoglio che Giuseppe Conte, la sua ultima apparizione televisiva pubblica, l'aveva fatta proprio sulla 7, il 21 febbraio 2020, quando, ricorderete, ma questo la Gruber ovviamente non l'ha detto, disse che non vi era alcun pericolo per l'Italia. Ebbene, è tornato ora a manifestarsi, curiosamente non sulla RAI, sul Servizio Pubblico Nazionale, bensì sulla rete privata, la 7, e già questo dovrebbe essere oggetto di qualche riflessione. Intanto ha elogiato, come era prevedibile, il proprio operato e anche quello del governo, di conseguenza, dicendo che senso di responsabilità e metodo sono state le cifre, finora, del modo con cui ha operato il governo. Addirittura ha detto che il governo ha operato in assoluta trasparenza. Non ha naturalmente evocato i verbali del CTS secretati e pubblicati solo in parte, che altrimenti avrebbe dovuto smentire il teorema dell'assoluta trasparenza. Digitalizzazione e svolta Green, le parole chiave del suo discorso, questa la base dell'operato del governo per fronteggiare la pandemia, e quando è emerso il tema dello stato d'emergenza, che viene continuamente riproposto dal governo, ha elegantemente evitato di rispondere. Quando poi si è parlato del periodo natalizio, ha testualmente evocato misure ad hoc, dove in particolare quello che emergeva era la necessità testualmente di ridurre le occasioni di socialità. Non ce le possiamo permettere. Ecco il vecchio e ben noto lessico dell'austerity economica riproposto in salsa pandemica. Bisogna tenere i conti dei contagi in ordine. Non ci possiamo permettere feste natalizie e in particolare attuonato, per così dire, contro gli impianti sciistici, che resteranno chiusi, ha di fatto già ammesso. Sarà un Natale diverso, queste le testuali parole del Visconte di Mezzato, il quale di fatto ha avvalorato tesi che già circolano in questi giorni, a proposito del modo con cui il governo funesterà anche il Natale, come sempre con l'obiettivo verbale di proteggere la nostra vita. Si è poi passati a discutere del tema del vaccino, e a quel punto Conte ha testualmente affermato che egli non è a favore dell'obbligo vaccinale, ma che in ogni caso è meglio procedere tramite la non obbligatorietà. Io lo farò senz'altro. Queste le sue parole e, dopo tutto, erano anche attendibili. Quello che forse meno ci si sarebbe attesi era la precisazione, quando ha detto testualmente «vorrei non farlo per primo, per dar la precedenza alle categorie più vulnerabili». Ecco che emerge l'astuta modalità operativa anche di Conte, che dice che i primi saranno comunque i più vulnerabili, le classi popolari, e non senz'altro lui e il governo. Poi si è passati al tema del dialogo con le opposizioni, dove Conte ha detto una cosa di per sé ovvia, ma presentata come in realtà non ovvia. Ha detto «loro, le opposizioni, il confronto lo volevano in Parlamento, come se ci dovessero essere altri luoghi deputati al confronto politico, peraltro, in forma istituzionale». E ha detto che Forza Italia ha un approccio dialogante più costruttivo rispetto a Fratelli d'Italia o alla Lega di Salvini. Si è permesso anche, con tono schiettamente paternalistico, di dare un consiglio ai sindacati. Non è un buon momento per contrattare. E poi, sul MES, dicendo che confidava che questa domanda stasera non ci fosse, ha ancora una volta evitato di rispondere. I mercati finanziari credono in noi, ha tuttavia precisato, e ha altresì detto che con Mario Draghi si sono sentiti. La Gruber, a quel punto, ha dato il meglio di sé, dicendo che, in fondo, consigli preziosi glieli potrebbe dare, in riferimento a Draghi, naturalmente, che dovrebbe essere il nome tutelare del governo. Insomma, uno scenario incredibile che conferma tutte le già note tendenze e che rivela, una volta di più, che questo governo giallofucsia è il peggio che potesse capitare all'Italia, in generale, e a maggior ragione in questo sventurato momento storico. Radioattività con Diego Fusaro